Dal 12 luglio 2020 sarà direttamente applicabile il regolamento UE 2019-1150 per i marketplace. Questo regolamento vuole promuovere l'equità e la trasparenza a vantaggio degli utenti commerciali, dei servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca. Ne parleremo ancora avanti, quindi se vuoi rimanere aggiornato iscriviti al mio canale e clicca sulla campanella per guardare tutti i video e non perderti i prossimi. Il 31 luglio 2019 è entrato in vigore il regolamento UE 2019-1150 del Parlamento europeo e del Consiglio che contiene norme che sono direttamente applicabili in tutti i paesi UE dal 12 luglio 2020. Il regolamento promuove l'equità e la trasparenza per gli utenti commerciali, dei motori di ricerca e dei servizi di intermediazione online, quindi le piattaforme e i marketplace digitali. Pensi a Adalando, Amazon e anche il marketplace di Facebook. Parentesi, la differenza tra un e-commerce e un marketplace la sappiamo tutti. Il primo è lo store online che di solito gestisce pochi fornitori, vende prodotti spesso settoriali, mentre i marketplace sono dei grandi centri commerciali online sostanzialmente che vendono prodotti anche molto diversi tra di loro e raggruppano insieme molti marchi autonomi. L'e-commerce quindi ha un ruolo prettamente operativo e si occupa dell'intera gestione del processo di vendita, quindi coordina la logistica, gestisce gli ordini, le consegne, di solito anche un team che poi cura la parte legata alla comunicazione e al marketing. Il marketplace invece ha un ruolo più di coordinamento, cioè gestisce il tutto ma non ha un ruolo operativo poi nelle vendite. Quindi la sua gestione è decisamente più onerosa e molto più complessa di quella di un e-commerce, anche perché deve coordinare tra loro moltissimi fornitori esterni, ognuno dei quali resta comunque titolare del proprio magazzino. Quindi dal punto di vista dei soggetti che partecipano allo scambio dei beni all'interno dei marketplace, i marketplace possono essere quindi di tre tipi, i marketplace tra professionisti, i business to business, nei quali i partecipanti poi alle transazioni non rivestono lo status di consumatore, e-marketplace tra professionisti e consumatori, i business to consumer, nei quali gli acquirenti sono per l'appunto i consumatori, e i marketplace tra consumer, cioè tra consumatori, consumer to consumer. Il regolamento UE vuole garantire un ecosistema online competitivo che sia equo e trasparente, in cui le imprese agiscano in modo responsabile. Il regolamento va in questa direzione, chiedendo ai titolari di piattaforme e marketplace digitali l'adozione di una serie di misure di equità e trasparenza. Si applica quindi ai servizi di intermediazione online, purché siano forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente agli utenti commerciali e agli utenti titolari dei siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento e di residenza nell'Unione Europea e che tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online offrono beni o servizi ai consumatori nell'Unione Europea, così prevede l'articolo 1 del regolamento. Facciamo un esempio. Il titolare gestore di un marketplace con sede in Europa o negli Stati Uniti, quindi un altro paese anche extra-we, sarà soggetto a questo regolamento, nella misura in cui offra poi i propri servizi ad utenti commerciali, imprese o liberi professionisti, con sede nell'UE, purché questi ultimi offrano a loro volta beni o servizi ai consumatori dell'Unione Europea, quindi a scalare in questo modo. In sostanza il regolamento si applica ai rapporti contrattuali tra gli utenti commerciali che offrono beni o servizi B2C e ai fornitori di servizi di intermediazione online che poi consentono di raggiungere il consumatore finale. Si applica anche però ai titolari di siti web aziendali e ai fornitori di motori di ricerca online che vengono consultati dai consumatori. Non si applica invece ai servizi peer-to-peer, quindi tra consumatore e consumatore, esclusivamente B2B, quindi business to business, ossia che non risultino poi funzionali all'instaurazione di rapporti commerciali con i consumatori. Non si applica nemmeno ai servizi di pagamento online, di pubblicità online che non implicano una relazione contrattuale con il consumatore. Tra le principali misure che possono essere di immediata evidenza per gli utenti commerciali di primo impatto ci sono quelli sui termini e le condizioni che dovranno essere redatti in particolare in un linguaggio che sia semplice e comprensibile, dovranno essere facilmente reperibili dagli utenti commerciali in tutte le fasi del rapporto, quindi dovranno essere consultabili subito e immediatamente in maniera molto semplice anche nella fase precontrattuale, quindi prima che io concludo il contratto, nella fase dell'accettazione. Dovranno indicare le ragioni che giustificano le decisioni da parte del titolare, poi del servizio di intermediazione, di sospendere, cessare o limitare in qualsiasi modo, in tutto e in parte, la fornitura dei servizi di intermediazione online agli utenti commerciali. Dovranno comprendere le informazioni su eventuali canali di distribuzione agentivi e potenziali programmi affiliati, attraverso i quali i fornitori dei servizi di intermediazione online possano commercializzare poi i prodotti e i servizi offerti dagli utenti commerciali. Le informazioni dovranno contenere anche indicazioni generali sugli effetti dei termini e le condizioni sulla proprietà e il controllo di diritti della proprietà intellettuale degli utenti commerciali. Queste sono le regole di massima. I fornitori dovranno anche comunicare agli utenti commerciali qualunque modifica proposta dei loro termini e delle loro condizioni e la notifica dovrà essere inviata con un preavviso minimo di 15 giorni. Quindi, nel caso in cui poi l'utente commerciale non accetti le modifiche, avrà facoltà di risolvere il contratto. Nonostante l'ambito di applicazione del regolamento riguardi i fornitori di servizi di intermediazione online e poi gli utenti commerciali, i beneficiari ultimi sono sempre e comunque i consumatori finali. Il fine, infatti, è quello di contribuire indirettamente a migliorare la fiducia dei consumatori nell'economia di queste piattaforme online e dei marketplace digitali. Quindi, se il gestore del marketplace, che spesso ha delle informative, delle condizioni che non sono facilmente fruibili, offre i propri servizi a utenti commerciali, che a loro volta offrono poi bene i servizi esclusivamente a professionisti, il regolamento non troverà applicazione. Quindi, solo se l'utente finale è un consumatore. Quindi, i marketplace business to business restano comunque esclusi dal regolamento. Si applicherà, abbiamo detto, ai fornitori marketplace digitali business to consumer e sarà diretto alla regolamentazione, quindi alla fruibilità più immediata da parte di questi ultimi. Rimane, naturalmente, il marketplace un luogo virtuale all'interno del quale avvengono gli acquisti di impegno e servizi tra gli utenti. Quindi, per forza ci sono in gioco diversi attori economici. Naturalmente, non trova applicazione agli utenti commerciali dovendosi intendere quei privati che agiscono poi nell'ambito della loro attività commerciale o professionale e nemmeno nel caso di acquisti fatti da persone giuridiche. Quindi, l'importante è che poi il destinatario finale del rapporto sia comunque sempre il consumatore. Questa è una prima panoramica del regolamento. Per qualsiasi domanda o ulteriori chiarimenti o approfondimenti su comunque la normativa che poi sarà direttamente applicabile dal prossimo luglio mi puoi contattare sul mio blog, mi puoi seguire sui miei social e sull'hashtag AlexRoundMe. Grazie, ciao!